Ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti. Come state? Tutto bene? Buona domenica. Intanto che mi sembra la cosa più importante. Allora, oggi match day perché si gioca la spessa Juventus. Devo dirvi la verità, non sono proprio tranquillissimo per una serie di motivazioni che voglio andare a presentarvi. Parto da un principio, cioè oggi non uscirà il post partita classico direttamente qui su YouTube perché ci sarà il post partita sul numero 10 che vi invito a scaricare. Il link è qui sotto in descrizione. Applicazione completamente gratuita dove carico ogni tanto alcuni video e scrivo gli articoli dato che sapete che sto prendendo il patentino per diventare giornalista sportivo. Quindi scaricatevi il numero 10. Qui su YouTube ovviamente non è che non ci sarà niente. Avremo una chiacchierata da fare insieme su un'altra tematica, magari a seconda di quello che accadrà all'interno della partita o su quelle che saranno le parole dell'allenatore post conferenza stampa. Quindi comunque non vi preoccupate che l'appuntamento classico dopo la partita ci sarà. Invece il post partita classico, quello che siamo abituati a vedere, un pezzo sarà caricato sul Nordias. Vi invito a scaricarlo per andarvi a vedere entrambi i contenuti. Allora, lo Spezia non è messo benissimo. Non è messo benissimo. Sto guardando la classe che in questo momento ho 17esimo posto con 19 punti più 2 sulla zona retrocessione dato che il Verona è al terzo ultimo posto con 17 e quindi lo Spezia è una di quelle squadre che sta cercando di rimanere all'interno della Serie A. Oggi non avrà nemmeno allenatore perché Gotti è stato esonerato e al suo posto verrà inserito semplici che arriverà molto probabilmente una giornata di domani quindi ad oggi abbiamo contro un allenatore ad interim che è Lorieri che era praticamente il vice di Gotti che oggi siederà invece sulla panchina dello Spezia come allenatore principale e attenzione che già questo può essere un indicatore di quello che può essere uno sbalzo umorale da parte di uno Spezia che comunque non vince da un mese. L'ultima vittoria dello Spezia è datata 15 gennaio quindi più di un mese fa nella partita contro il Toro per 1-0. L'ultima partita invece è un 2-2 molto beffardo contro l'Empoli che è costata appunto la panchina a Luca Gotti. Tra l'altro simpatico no? Perché mentre guardavo la classifica mi sono accorto di una cosa. Juventus in questo momento al decimo posto, quota 29 punti in seguito alla penalizzazione dei 15. Vincendo oggi si porterebbe a quota 32 raggiungendo al settimo posto il Bologna. E già vedere il Bologna al settimo posto è qualcosa di secondo me incredibile. Credo che ci siano anche dei ricorsi storici, degli intrecci interessanti perché il Bologna in questo momento è allenato da Tiago Motta che proprio l'anno scorso aveva salvato lo Spezia e salvando lo Spezia non era riuscito comunque a mantenere la sua panchina. È stato esonerato al suo posto, è stato preso appunto Gotti che in questo momento è stato a sua volta esonerato. Quindi a volte si fanno dei movimenti all'interno delle panchine delle squadre che cercano di salvarsi o che addirittura riescono a salvarsi quantomeno inspiegabili perché Tiago Motta veramente aveva fatto un lavorone l'anno scorso con lo Spezia e in questo momento Tiago Motta sta raccogliendo i risultati del suo lavoro proprio con il Bologna al settimo posto che può essere agganciato dalla Juventus oggi. Tra l'altro Tiago Motta che prende posto il posto di Sinesa Miarevice sulla panchina del Bologna. Panchina del Bologna inizialmente offerta a De Zerbi che rifiuta per via dell'amicizia che lo legava a Mijailovic che purtroppo avrà un destino decisamente più tragico rispetto ad un esonero su una panchina di Serie A. Ora De Zerbi in Premier sta comunque mantenendo una media europea e sta facendo parlare di sé, sta veramente facendo gonfiare il suo nome per via delle prestazioni e comunque delle posizioni che sta raggiungendo. Tiago Motta sta comunque portando in alto il Bologna. Gotti che invece ha preso Udinese e è stato esonerato e ricomincia una nuova storia proprio contro la Juventus. Quindi veramente un insieme di cose abbastanza strane, scioccanti se vogliamo e curiose. Mi piaceva condividere con voi questo ragionamento, questa sorta di pensiero. Io non sono tranquillissimo, ve lo dico. Non tanto per la reazione che potrebbe avere lo Spezia con il cambio in panchina, sappiamo che tutte le volte che c'è un cambio in panchina, un allenatore nuovo o c'è un allenatore che non è l'allenatore in panchina, possono succedere delle cose un po' particolari. L'abbiamo visto anche quando Landucci ha allenato la Juve, quando Martuscello ha allenato la Juve, perché né Allegri né Sarri erano disponibili. Ci sono state magari delle partite un po' pazze, lo sappiamo. Mi viene in mente la partita con lo Roma dell'anno scorso, il 4-3 con gol di De Sciglio. Mi viene in mente la partita maledetta dove Chiesa si fa male. Mi viene in mente il Juve-Napoli 4-3 con l'autogol di Colubbalea il novantesimo. Mi vengono in mente diverse partite che potrebbero essere un'indicazione da questo punto di vista. Ma al di là di quello, questa partita è posizionata e sulla carta è una partita semplice, per noi ve l'abbiamo detto, lo Spezia ha delle problematiche, ma è posizionata in mezzo all'andata e al ritorno contro il Nant. Che anche quella non dovrebbe essere una partita particolarmente complicata sulla carta per quelli che sono i livelli delle due squadre. Però abbiamo visto che qualsiasi squadra può metterci in difficoltà. Ricordate quando agli anni di Pirlo continuavamo a ripeterci questa squadra è talmente pazza che può vincere da tutti e perdere da tutti. Noi non siamo più in quella situazione. Siamo una squadra che può comunque subire da tutti, ma difficilmente si viene a dire vinciamo da tutti. Quindi è stato addirittura un passo indietro probabilmente a livello di percezione della squadra per quanto riguarda il tifoso juventino. In questo momento qui c'è da stare attenti anche allo Spezia. In questo momento qui c'è da prestare particolare attenzione anche allo Spezia. C'è da rispettare pure lo Spezia. Perché abbiamo visto che anche una squadra come il Nant ci può mettere in serie difficoltà. Ora, lo Spezia dovrebbe essere comunque di livello inferiore rispetto al Nant. Stiamo parlando di una squadra che comunque gioca in una competizione europea e una squadra che lotta per rimanere all'interno della serie A per non retrocedere in serie B. Viene da sé pensare che i livelli siano differenti. Ma fin troppe volte in questa stagione abbiamo visto che non andando al 100% in campo concentrati riusciamo a fare delle brutte figure anche contro squadre che sulla carta non dovrebbero crearci problemi. E poi il calcio è uno sport che per fortuna l'ultima può battere la prima e l'ultima potrà sempre battere la prima. Ma anche considerando i discorsi che sono stati fatti ieri in conferenza stampa, delle statistiche e dei dati che hanno tirato fuori i giornalisti, delle riflessioni che abbiamo fatto sul canale YouTube nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, sappiamo per certo che la Juventus è una squadra che se non ammazza la partita, soprattutto in trasferta, diventa un po' un problema. E oggi, all'interno di una partita, con queste premesse, con quest'andata e ritorno col Nantes, che sono le partite più importanti per la Juve, perché la Serie A sappiamo il discorso, 15 punti di penalizzazione, ma l'Europa League è una competizione nella quale la Juventus deve credere, perché se no non ha più senso questa stagione, veramente non ha più senso, la Juventus deve credere in quella competizione lì. E se aggiungiamo, perché non abbiamo ancora parlato fino adesso, ma ci arriviamo, alla probabile formazione, sono un pochino preoccupato. Bremer è squalificato, c'è Rugani, Scesni riposa, c'è Perin, giocano Alexandro e Danilo, molto probabilmente, questi dovrebbero essere gli altri due difensori insieme a Daniele, davanti alla difesa parede, se Locatelli prende il posto dei fagioli, perché non è al meglio? Già perdiamo quello che in teoria guida la difesa, che è Bremer, quello che sta al centro della difesa, ma lo sapevamo, è squalificato. Perdiamo anche quello che solitamente sta davanti alla difesa, Locatelli, a meno che non vengono invertiti Locatelli e Paredes con Paredes Mezzal, Locatelli davanti alla difesa, cosa che non credo. Perdiamo Fagioli, che era il giocatore in grado di dare più ordine, più qualità, più palleggio, più pulizia, anche nelle uscite della Juventus, che era diventato a tutti gli effetti un titolare. E davanti perdiamo l'uomo che solitamente si prende in mano la Juventus e crea dal niente come Angel Di Maria, e l'uomo che con i suoi strappi può sempre creare un problema, perché ha un'accelerazione incredibile anche posto in fortunio, anche in un momento di recupero come Federico Chiesa, che in questo momento è affaticato per vedere le troppe partite che ha fatto e ci sta. Non perdiamo poco, perdiamo la spina dorsale della squadra. Non c'è Bremer, non c'è Locatelli nella sua posizione, non c'è Di Maria, che è quello che solitamente la va a prendere, quindi i tre che solitamente giocano come spina dorsale della squadra non ci sono, e non c'è né Fagioli né Chiesa. Chiesa non è nemmeno convocato, Fagioli c'è, ma non sta bene, anche lui è un po' affaticato, e lo risparmieranno molto probabilmente. Quindi capite bene che inserendo nel calderone tutte queste informazioni che vi ho dato, lo spezia che cambia allenatore, la Juventus che è concentrata non solo su questa partita, un turnover massiccio, più che altro concentrato nella parte centrale della squadra, che è solitamente portiere, difensore, centrocampista, regista, e attaccante rifinitore, ci manca proprio tutta quella spina dorsale lì, sono dei cambi unobbligati da una parte, perché non stanno bene alcuni giocatori e va, o sono squalificati e vanno tenuti a riposo per forza di cose. Dall'altra mi preoccupano, perché già la Juve probabilmente non è pienamente concentrata sulla Serie A, già la Juve probabilmente ha in mente la partita di giovedì, già la Juve non è uscita benissimo dall'ultima partita proprio di giovedì, perché il risultato è quello che è, è un insieme di cose che mi preoccupa, devo dirvi la verità. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, e noi ci vediamo oggi pomeriggio in live su Twitch per commentare insieme la partita, sperando di non dover tribolare troppo. Guardo questa formazione e dico, non dovrebbero esserci problemi contro lo Spezia, però conosco i miei polli. Vedete di non rovinarmi la domenica, vi prego per cortesia fatemi questo regalo.